Ultimissima domanda sulle amministrative, perché la riguarda personalmente, lei dice che il PD sta scomparendo, una sciocchezza di grillo, è chiaro che non sta scomparendo. Arrignano è andata male, che segnale è per lei? C'è dentro qualche cosa che la riguarda personalmente o familiarmente oppure è stato un caso? Mi trovo a uno che neghi l'evidente relazione tra ciò che è accaduto in questi giorni, in queste settimane, in questi mesi, sulla vicenda Consip e le fondamentali vicende di Arrignano sull'anno. Io capisco che per dire che abbiamo perso, l'anno scorso ci ponevano i casi di Roma e di Torino, quest'anno di Arrignano, che è un bel salto di qualità per il mio comune. Negli ultimi sei mesi, chi non è stato su Marte sa che a un certo punto è venuta fuori un'indagine. Per esempio, i lettori di Repubblica ricorderanno una celebre intervista in cui si parlava di una cena in una bettola segreta tra mio padre e un imprenditore. Lo diceva un noto commercialista vicino a me. Chiunque lo dicesse, chi ha letto Repubblica e ha visto questa cosa, non è mai esistita, non c'è mai stata. È una fake news, però alla luce di questo scandalo costante sulla vicenda di Arrignano... L'ha pagata, insomma, lei dice. No, no, aspetti, visto che si parla di Arrignano ve lo faccio a dire. Si è scoperto poi che pezzi di un nucleo particolare dell'arma dei carabinieri sono indagati perché inventavano prove contro mio padre e contro di me. E siamo in presenza di una delle più clamorose, clamorose notizie scandalose di questo paese. Io non sono più Presidente del Consiglio e uno dice, qualcuno può dire meno male da casa. Ma io dico anche per le istituzioni, meno male che non sono più Presidente. Scusi Giannini, se fosse vero che qualcuno ha fabbricato prove false contro il Presidente del Consiglio, come si chiama questo tecnicamente? No, no, ma su questo io le do. Cosa gravissima. Penso che su questa vicenda, a differenza degli altri politici, qualcuno che ci ricordiamo, io ho avuto un atteggiamento molto serio. Ho detto, chi è colpevole deve pagare. Chiedo che si vada fino in fondo, chiedo che si vada fino in fondo, fino in fondo, fino in fondo, fino in fondo. E non passerò un solo momento pubblico di questi mesi senza dire, su Consiglio chiedo che venga fuori la verità. Non sono come gli altri che fanno i propri interessi nelle modalità che conosciamo. Io sono qui e dico, bene, volete parlare di Consip? Venite. Dateci la verità su questa vicenda che è tecnicamente uno scandalo. Aspetto che venga risolta. Diciamo, è venuta fuori per caso tutta questa vicenda, però ne approfitto per fargli un'ultima domanda su questo e poi torniamo a parlare di legge elettorale, di prospettive. Anche se è la sconfitta che più mi dispiace di queste... Giussi Nicolini, era l'altra cosa che mi premeva dire. L'ho detto lei, perfetto. Era quella, no? Cos'è l'abbraccio mortale di Renzi? La presa in segreteria e questa ha perso. Ora, prendo l'acqua, che dia la colpa a me. Ci beva sopra. Ci sono tanti sindaci che hanno vinto. Mi spiace molto per Giussi. Beh, no, è una brutta cosa, è un indigamento. I cittadini di Lampedusa hanno i diritti, come tutti gli altri, di fare le proprie valutazioni. Però quando una persona come Giussi ha fatto una battaglia in questi cinque anni, a me è parso bello. Mentre tutti gli altri leader facevano le... Abbiamo vinto a... I grillini hanno vinto in due comuni sotto i 5 mila abitanti, hanno fatto... Abbiamo vinto, non mi ricordo come si chiamano. A Sorego, adesso non ricordo, in provincia di Bergamo. Benissimo. Ok. Io, che sono felicissimo dei tanti sindaci che abbiamo già conquistato, dico, sono fiero di aver conosciuto una persona come Giussi Nicolini, che ha anche quando ha perso, e che valorizza anche quando ha perso, perché ha comunque rappresentato dei valori che sono i nostri valori. Io non mi nascondo su queste robe. Una sola cosa ancora su Consip, visto che l'abbiamo introdotta in modo, diciamo, laterale partendo da Rignano. Un'altra cosa però totalmente anomala è la posizione dell'amministratore delegato di Consip. Possiamo dirlo questo, no? Luigi Marroni ha detto lui ai magistrati, che ha subito pressioni, che ha avuto la notizia dell'inchiesta da un generale dei Carabinieri, da Lotti, da Tiziano Renzi e così via. Non credo, Tiziano Renzi, ma comunque è bene? Ecco, sta ancora al suo posto. Allora, lì, chi ha mentito? Allora, ci dica questo in tre secondi e poi parliamo del resto. Io non faccio il giudice. So che arriverà un giudice che dirà chi ha ragione e chi no. Non trova strano però che lui rimanga ancora al suo posto? Questo è un problema che riguarda l'amministrazione, la Consip e gli altri. Io non ci metto bocca, capirà che sembrerebbe un atto leggermente fuori tono da parte mia. Io sono assolutamente certo, perché ci ho lavorato insieme, dell'atteggiamento e del comportamento di Luca Lotti. E se Luca Lotti dice, mostrando le agende, senza far polemica, dicendo io ho visto queste persone, ho incontrato questa gente, ditemi. Lui l'ha detto in Parlamento, però l'ha detto anche in aula, non so in parola giudiziaria. Alla luce di questo, possiamo stare ore a discuterne. Possiamo stare a discutere della notizia del Falc. A me interessa molto, se adesso c'è un meccanismo in cui i giudici, giustamente, tra l'altro sono giudici molto seri secondo me, alcuni di quelli che indagano ovviamente, nel senso che come tutti i giudici hanno migliori e peggiori professionisti, ma molti dei giudici che stanno indagando su questa vicenda hanno la stima davvero diffusa di tantissimi italiani italiani. Le dico, se i giudici decidono di andare a scoprire chi è che passa le notizie, io sono contento. Fossi una redazione di un giornale sarei un po' preoccupato, perché la pubblicazione di notizie che vengono passate dalle veline, così, da qualche ufficio giudiziario, è un atto illegittimo. Quindi è una cosa molto interessante se finalmente si va a beccare chi è che dà le notizie. Detto questo, subconsip, non è questo il punto. Siamo partiti da una mega tangente che nessuno sa dov'è, vediamo se c'è, e se c'è chi l'ha pagata, chi l'ha presa, chi l'è, ne risponda. Ma siamo arrivati a un punto in cui c'è qualcuno che fabbrica prove false. Ma quello l'abbiamo detto, se è così è una cosa gravissima. Questo è il punto fondamentale. Qui stiamo a dire, cos'è questo? Un telefonino? Scrivi che è un telefonino. Bene, scrivi, dice, cos'è? Questa è la vastoviglia che mi hanno messo? È un telefonino. Qual è un aspetto effettivamente grave della riscenda? La prova falsa rispetto al presidente protempore è una cosa enorme, tecnicamente è un nome ben preciso in un paese di diritto, in uno stato di diritto. Senta, segretario, allora c'era anche una domanda di un nostro ascoltatore su Rignano, Giovanni Lo Celso, come può essere credibile Renzi a livello nazionale, visto che nemmeno i suoi compaesani che conoscono bene lui e suo padre gli danno fiducia. Ha già risposto. No, non ho risposto a un'altra domanda ancora. Giovanni Lo Celso, io trovo che sia una vita molto difficile quella di chi passa la giornata a cercare degli argomenti che di fatto sono totalmente altri. A Rignano sull'Arno, alle primarie, abbiamo visto i voti. A Rignano sull'Arno, quando io mi sono candidato, quando ho preso il referendum, abbiamo visto i voti. Dopodiché, se vogliamo stare per dieci minuti a ragionare di Rignano sull'Arno, dove c'è una vicenda grossa come una casa che incide su quel comune. No, per questo dicevo. Perché il sindaco che ha già risposto è il sindaco che era già stato individuato dal PD prima che venisse fuori questa benedetto scandalo Consip. Ora, io adoro Rignano sull'Arno. Sono molto preoccupato della circonvallazione di Rignano, di mettere a posto le strade in via della Businga. Trovo fondamentale che il Viale Vittorio Veneto abbia di nuovo la fontana, in fondo, a Piazza della Vittoria, che funziona. Detto questo, mi piacerebbe anche riaprire il Cinemastro di Rignano sull'Arno. Una volta che ho detto questo, c'è cortesemente la possibilità di vedere che la vicenda Consip è una cosa enorme di cui non parla nessuno e che le amministrative, la politica, il sogno di cambiare l'Italia è qualcosa che va anche un pochino oltre i confini di via della Businga a Rignano.